Grazie Grazie De Laurentiis Grazie Volevate che io ringraziassi De Laurentiis per lo scudetto? Grazie Grazie E lo ringrazio anche per averci buttato un'altra volta nella merda Grazie Grande presidente I che scuorn Mietta da scuorn Mamma mia che scuorn Che scuorn Che scuorn Che scuorn Che scuorn Che scuorn Che figura è me Gli altri ci ridono Ci ridono addosso e hanno ragione Hanno ragione Una squadra che fino a Un paio di mesi fa Vinceva Festeggiava lo scudetto Adesso Sembra mamma mia Un po' Sembra un casino Sembra un casino Un confusione a go go Ovunque ti giri Ti giri c'è confusione Grande De Laurentiis Grande Grandissimo E giustamente vinci solo tu Perché i coglioni continuano a difenderti E sottoline i coglioni I coglioni Che si aggrappano E ma ci hanno fatto vincere lo scudetto Grazie Cazzo Bene Grazie Però sta da girare Si deve continuare Bisogna aprire un ciclo E non l'ha fatto Non l'ha fatto Questo è importante Non l'ha fatto Non bisogna vivere di ricordi Non bisogna vivere di riconoscenza Che io come ho sempre detto La riconoscenza Rindo culo Te la prendi nel culo La riconoscenza La riconoscenza è stuazza Riconoscenza Buongiorno 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 Fate quello che volete Iscrivetevi Condividete Quello che volete Non vi obbligo Tanto lo so Non lo farete Ci vediamo in live Ok Però qua ci vediamo in live Vi metto il link del canale Nel primo commento Perché lì Si parlerà Di questa situazione Parleremo in maniera Più globale In maniera più generale Anche per creare un dibattito Con voi Della chat Di questa situazione del Napoli Che È vergognosa È aberrante Un'organizzazione Che Che manco l'Udinese C'ha Che manco il Sassuolo C'ha Che manco Il Parma Che sta in sere E bicia Cioè tu hai vinto Lo scudetto Tu hai vinto lo scudetto Tu potevi creare Un ciclo vincente Porca troia Potevi creare Un ciclo vincente E che fai A prendere Un direttore sportivo Dopo l'allenatore Dopo l'allenatore Sconosciuto Cioè Andato un po' Meluso Andava a firmare Sul foglio di carta Sul foglio di fazzoletto In ciabatta E con pigiama Perché Non sape Non chissà Che Deorentz Lo chiamasse Ok È via Meluso Che è una figurina Una figurina È stu cazzo È via Cassia E voi Io ancora Devo sentire Le scuse Devo ancora Sentire E leggere Le scuse Eh ma Tu devi avere Fiducia Eh ma Come parti in quarta Eh ma Ble ble Infatti Quei commenti Di quelle persone Che hanno commentato Nel Nel futuro Nei video successivi Non l'hanno fatto più Perché Coda di paia Coda di paia Eh Ditemi ancora Che sono incompetente Ditemelo Ditemelo Perché è vero È vero Sono un incompetente Testa di cazzo Però dico La verità in faccia Dico Ho le palle Di dire La mia verità Non è che mi nascondo Dietro il dito E dico Eh ma Forse Chi lo sa Io dico le cose Punto Per come mi passano Le pass Mi passano Anche volgarmente Sti cazzi E continuate a difendere Cazzo Cioè Mamma mia Che poi In fondo in fondo La colpa Non è manco di Garzia La colpa È di chi ce l'ha messo Che si è adagiato Sugli allori E di chi ce l'ha messo E chi lo va a fa A A In mezzo campo Signori Noi punteremo A fare Bella figura In Champions E proveremo A confermarci In campionato Com Poi a Di Maro Che va a dicere Signori Tifosi Ho appena rinnovato Il capitano Giovanni Di Lorenzo Da lunedì Perché era sabato La festa Della fine Lui che ormai È un ex giocatore Basta Sto aspettando Ancora Oggi 14 novembre I rinnovi Di Osven Zelisca E Kvarrascheli Arustan E poi E poi Dicono Sembra fare Un copy and call Degli ultimi video Poi dicono Eh ma Vincerete Tra 30 anni Cosa pretendi Cos'è con tutti i Finapoli Non di Firi al Madrid Sì ma Cazzo Tu hai vinto Lo scudetto Hai vinto Lo scudetto Si vede Una confusione Generale Un presidente Che prende García Che viene dalla rabbia Già parti Col presupposto Chi sto fa schifo Punto E infatti Ha confermato Ciò Paura Difesa Squilibrata Cambi Senza senso Esperimento Del 4-2-3-1 Per farsi cacciare Kvarrascheli Una volta Gioco Due volte No perché Lo mette in banchina Perché Boh che forse In quel caso Si è fumato Qua non E vabbè García Se n'è andato E chi prende Mazzarri 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 Io nutro Una profonda Riconoscenza E rispetto Per Mazzarri Che ci ha fatto Vincere La Coppa Italia Ha fatto Il suo Onesto lavoro Con una squadra Modesta Solo tre Erano i fenomeni Amsic Lavezzi E Cavani Però Per come Ci ha lasciato Perché lui Ebbe Fece Un accordo Con l'Inter Cosa che lui Già Stava ancora Sotto contratto Con Napoli E guarda caso Quando ha lasciato Napoli Dopo una settimana Andò all'Inter Guarda caso E quindi Sta ancora Quell'episodio Poi Vabbè Non parliamo Delle conferenze Stampa Post e Pre partita Vabbè Post partita No ma Era il compleanno Di Cavani Era un ambiente Un po' Frizzantino Per questo Abbiamo sottovautata La gara Compleanno Di Cavani Compleanno Di Cavani Vabbè Io già immagino A sentire Le piangina Monna mia Cioè Io Io ammiravo Gattuso Spalletti E in certi casi Ancelotti Nelle conferenze Stampa Perché non si attaccavano Alle stronzate Sarri E Mazzarri Sì Mamma mia Mamma mia Mamma mia Comunque Se García Ha portato Confusione Paura E tutte le robe Appresso Che abbiamo visto In questi mesi Io mi aspetto Da Mazzarri Che lui proprio Si è proposto Settimane fa Ed avrei disvedendo Che Tudor Voleva Un contratto Di un anno e mezzo Gaciardo Non sarebbe mai entrato A gara in corso A campionato in corso Neanche Conte Eccetera Eccetera L'unico Che lui vuole Traghettatore L'unico disposto A fare 6-7 mesi Era Mazzarri Perché lui si è Autoproposto Settimane fa Da Mazzarri Ma quello c'è Mazzarri Che era disposto E l'ha viato Questioni di soldi Ovviamente Anche Anche questioni di soldi Non solo di durata Del contratto Io da Mazzarri Mi aspetto A parte il fatto Che lui Settimane fa Appunto Disse No io ho studiato Il calcio di Spalletti E potrei proporre 4-3-3 Vediamo un po' Cosa farò Ovviamente Io come ho dato fiducia A Garcia Do fiducia A Spalletta Magari Spalletti Do fiducia A Mazzarri Ok Ovviamente I suoi sordi Non sono facili Infatti Mo tiene Atalanta Inter Juve Real Madrid Eccetera Eccetera Quindi È poco Da giudicare In quelle partite Però Rispetto a 10 anni fa Ha una rosa Molto più forte Io mi aspetto Che lui Visto che ha 62 anni Mi aspetto che Si sia un pochino Evoluto Si sia un pochino Modernizzato Cosa dubito Fortemente Però A Sparanz È kill E Mi aspetto Da lui Equilibrio Equilibrio E fame Cosa che Queste due cose Non sono Non si sono viste Con Con Garcia Ok per quanto mi riguarda E per come abbiamo visto in campo Poi Per il meme Per questo Lasciamo stare Lasciamo stare Io Io purtroppo Ragazzi Io sono rassegnato Io guardo in Napoli Tifo Napoli È come se Non ci fosse Come se non ci fosse L'allenatore Tutto quello che volete Che io ti fò la maglia Però Sono rassegnato Cioè Vedere una squadra Che ha vinto lo scudetto E poi ritrovarsi In una confusione Così Lampante Grazie alle decisioni Scellerate Di un presidente Che non ha ambizione Perché non ha ambizione De Aurendis Non ha ambizione Perché se avesse avuto ambizione Avrebbe pagato la clausola De Zerbi Avrebbe pagato la clausola Per italiano Avrebbe pagato la clausola A Tiago Motta E li avrebbe presi Li avrebbe preso Uno di questi Preso l'allenatore Prende Un direttore Avrebbe preso Un direttore sportivo Che è Pall E dire Fate voi Fate voi il mercato I caccio sulle sorte Ciao E basta Basta Che alla fine Waiu Garcia Non aveva più La fiducia Dell'ambiente Non ce l'aveva più A parte il fatto Che non è mai scoccata La scintilla E questo è vero Però Nell'ultimo mese È stato quasi Asfissiato Da De Laurentiis Con la paura Infatti Ho detto sempre Che Lui pensava più Alla sua panchina Che al bene del Napoli Della squadra Quindi raga Venuto Mazzarri Benvenuto Mazzarri Mazzarri bis Va bene Pazienza Questo era l'unico L'unico disposto A farsi questi sette mesi Questa Questa sorta Di traghettatore E vediamo un po' Giudichiamo Poi dopo Vediamo partita Dopo partita Poi magari Oh Se vince tre partite Qua Atalanta Tra Atalanta Real Madrid Inter e Juve Wayu Amen Ma la vedo difficile Onestamente parlando Se speriamo Che siano Conferenze stampa Più serie E raga Fatemi sapere la vostra Noi ci vediamo Stasera in live E Come sempre Sottolineiamo Una cosa Forza noi sempre Ciao a io